Signori, Cenerentola a Parigi, Audrey Hepburn, ho preso questo film in un mercatino dell'usato anche se ho il cofanetto qua ancora da aprire, non facendo caso al caso, non facendo caso che fosse anche un musical, infatti l'ho visto nella metà del tempo, perché tutte le canzoni i balletti a me danno un fastidio assurdo, per quanto sia bella lei, cioè veramente, la commedia è un 5, se calcoliamo i balletti per me diventa un 3, comunque è un 5, non è niente di eccezionale, carina, fatta abbastanza bene, però se non vi piacciono i balletti ve la sconsiglio, del 1957 comunque, basta così, un saluto a tutti, iscrivetevi al canale se volete lasciate un like, ciao ciao